Ciao, sono Laura dalla sede di Noleggiare in via Concadoro 7 a Rossano. Siamo aperti 7 giorni su 7, dalle 9 alle 20, disponibili 24 ore su 24. Ecco alcune delle proposte per il vostro noleggio. CHR, la nostra vettura ibrida, ha 59 euro al giorno, 117 a weekend, 247 a settimana, con chilometraggio illimitato e casco inclusa nel prezzo. Per chi desiderasse il noleggio mensile, lo proponiamo a 789 euro con casco e 2500 km. BMW Serie 5 ha 82 euro al giorno, 165 weekend, 335 settimana, con chilometraggio illimitato e casco inclusa nel prezzo. Per chi invece desiderasse il noleggio mensile, la proponiamo a 980 euro con casco e 2500 km. Grazie.